La sentenza, il giudice ha letto il dispositivo per aver commesso il fatto un anno per lesioni gravissime, 5.000 euro per le spese processuali e una provvisionale di 20.000 euro per le spese dentistiche. Bene, la giustizia è arrivata anche da queste aule. Bene, un giudice ha emesso questa sentenza, io sono felice, sono felice perché vuol dire che si è aperto un dibattito, c'è una crepa, qualcosa si sta muovendo. Bene, noi non ci fermeremo qui, non sarà la sentenza che metterà fine al nostro dissenso e alle nostre richieste sulla polizia italiana. E oggi è il giorno di festeggiare perché un piccolo passo è stato fatto!